Fabio Condemi, prima. Non nascondetemi perché non sarebbe utile, non servirebbe a niente. Per me è un piacere stare nascosto, addormentato dentro il rumore della vita, per dirla con Sandro Penna. Anche nel mio lavoro mi piace nascondermi e nascondere. Per censurarmi veramente dovreste impormi di rivelarmi. A proposito dell'autore su cui lavoro per questa biennale, Roland Barthes ha scritto «La censura sociale non è dove si impedisce, ma dove si impone di parlare. La sovversione più profonda, la controcensura, non consiste quindi necessariamente nel dire ciò che colpisce l'opinione pubblica, la morale, la legge, la polizia, ma nell'inventare un discorso paradossale, puro e di ogni doxa. L'invenzione, e non la provocazione, è un atto rivoluzionario e può compiersi solo nella fondazione di una nuova lingua». E con questa citazione ho parlato nascondendomi dietro parole non mie. Grazie. 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 Grazie.